Buonasera a tutti e benvenuti bentornati in minecraft report speriamo che oggi sia più bello dell'ultimo video che l'ultimo video è stato un po' scherzino fuori c'è stato un po' perché oh non possiamo sempre che il server è brutto intanto bisogna far vedere anche i server belli C'è no che l'apportè dobbiamo far vedere anche le cose belle ma secondo me oggi partiamo già bene col server sinceramente oggi siamo animali Animali che c'è il teatro siamo tutti animali a sto mondo animali Ehi non toccare l'animale però non ti posso tricchiare Comunque ragazzi siamo in un server oggi comunque è carino guardate com'è ben costruito è ben costruito dai Ah mi scusi mi scordi lei professore Signor Che Chiubi Chiubi Cos'è chiubi Signor professor chiubi Vabbè è chiubi Bene per lei Comunque Ragazzi vi ricordo comunque di mettere la spuntina vicino se vedete qua sciotto il nome con insomma il nome degli iscritti Attivare le notifiche e vedere se vi arrivano Vi ricordo tutte queste cose qui Eh Devi dire queste cose che dopo la gente le sa Devi dire queste cose dopo la gente le scopre dopo va a spiare Ah si siamo animali giusto per quello E per quello che siamo animali ci siamo cugini è vero è vero non diciamo altro Comunque basta cazzeggio direi di partire Vediamo un po' Sempre Poi Poi sono reale sono principe Vabbè basta Comunque Sembra un sever di guerra comunque Sembra un sever di guerra E niente Esplodiamo un po' sta zona che secondo me c'è qualcosa Non c'è Cosa hai visto Come prendi Cosa vuol dire che prendi danno Aspetta devo provare Devo provare a stacco Fa vedere Ok si prende danno lab Perfetto Perfetto No aspetta Dobbiamo farlo Andiamo ai confini del mondo Andiamo Bella parola di questa Adesso dobbiamo provare Dobbiamo provarsi assolutamente a buttarci di sotto Pronto? Guardate che dicevo danno Sono morto Ah per il territorio perché siamo in un In un fashion Il mio letto è stato istruito Ma che cazzo siamo alla hub Non ho letto non ho niente cosa vuol dire Dov'è andato Signor volpe Dobbiamo fare il parkour dopo siamo in ritardo Su andiamo Vediamo di qua c'è il parkourino Vediamo un po' se riusciamo a escere bravi a fare il parkourino Ogni tanto vedrete delle immagini Un po' così un po' strane Ma per censurare i P e cose varie Lo sapete Cos'è successo? C'è andato? Vabbè Comunque Che bastardi Ho visto cadere la volpe sottofondo Praticamente io non ricevo danno in teoria Sopra i slime block ma non ho messo la neve Così dicevo danno grazie molto gentili Allora Parkour Sta bene dove sta Ma ha già rotto le balle Ma ha già rotto il cazzo Perfetto Andiamo avanti Allora datemi la bussola Lo abbiamo provato Abbiamo provato Allora bussola Non taglio niente Lascio tutto Ecco Allora andiamo Vai alla hub Cinque secondi Cinque secondi No Non è questo La donna Allora L'osso Ultra faction Ok 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 Perfetto Ok siamo Sì sì Ha ragione Abbiamo dovuto tagliare la scena Ha ragione Abbiamo dovuto tagliare la scena del parkour Perché L'abbiamo finito troppo Troppo Bene Quindi va bene Allora Bella comunque Questo è lo spawn Bello 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 Molta roba Molto carino Cos'è qua? Ah i warp Ok Warp Portali Taiga Warp clay Warp taiga Esploriamo prima benissimo questo posto Perché Secondo me c'è roba carina Dai Allora lo shop Qui si possono comprare i blocchi È bello dai però Questo è un plugin che mi piace onestamente È un plugin che mi piace Guarda che bello Ti puoi settare tutto Ti puoi settare Che bello Figo 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 Mi piace Mi piace Mi piace Ah no È bello davvero Si vende Si No mi piace Questo plugin mi piace Allora Da un'altra parte Io devo smettere di fare Perché se no Sul dipp dietro a sciocchiare Qua cosa c'è? Non lo dire Non lo dire Allora Warp enchant Nervi Ah che figo Si possono comprare gli enchant Ah è bella sta cosa Conosco anche sto plugin No è carinissimo Che lo puoi comprare Dai vieni qui Col tuo attrezzo Paghi 1000 2000 Quanto paghi E ti enchanti l'arma Così non c'è bisogno di farlo random No no Ci sta Ci sta Bello Bello E se questa cosa mi piace Flame È il fuoco Quello da mettere nell'arco Ok ok Figo Figo Qua cosa c'è? Warp fabbro Vabbè Warp fabbro Vabbè Repair Le polone della mano Chi se ne frega Tutorial raid Cos'è? Per redare un'altra fazione Ah per Ok Questo è per Distruggere le fazioni alleate Ok ci sta Ci sta Ah ti insegnano come si fanno I cannoni di TNT Ah figo figo Nelcuni seri sono anche evitati Qui sono consigliati Beh Beh mi piace Mi piace Ho detto le fazioni Cos'è? Ehm Papapapapapa Ok ci sono le armi della crackshot Ragazzi Ci sono le armi della crackshot Attenzione Attenzione La cosa si fa interessante Cos'è qua? Warp arena Oh qua ho trovato un buco C'è un buco qua Un buco Eh buco Attipatico E mo che faccio E mo che faccio Ah c'è il pvp Madonna i kick Madonna i kick Dobbiamo divertirsi Sì ma ci mettiamo una vita così da ammazzarci Mettiamo una vita Tanto due ore dopo erano ancora qua E vabbè mettiamo una vita così però Vieni a piangere Mettiamo una vita Dai 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 immagino se Dai Dai Ah E ho i pugni nelle mani Ho i pugni nelle mani C'è qualche comando No non dire così Che dopo che dopo piangio Allora fk Balancer Pop Home Vabbè dai anche il comando ci sta che sia attivo Tpa Oh sono i kick Kit Vediamo un po' i kit Kit soldato Soldato Oh kit soldato Vamo armature e spade Fati invorniti Beh donna Dai fermo Dai fermo Dai fermo Dai fermo Devi morire male Dai fermo Dai fermo Ma è vero non posso difendermi con la spada Madonna mia Ma che cazzo di armature c'hai in diamante No 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 Sono morto Non c'è anche il kip Vettore Non piangere Vabbè Vabbè ci stava Ci stava Allora facciamo un po' Andiamo un po' Vieni allo spawn Aspetta ci abbiamo il menu in mano Cosa fa Ah ok Cos'è Veicoli Bici Elicotteri Ah ok Per comprarli Con i punti No figo Figo Ah che figata Sono i comandi rapidi Guarda che figo Vabbè alcune cose le puoi avere Ecco lo shop Vabbè l'ender chest Che sia solo per vip Ci sta Mi sta piacendo sto server Guarda Nei suoi molti errori Ci sono molte cose carine Dai Allora Vediamo un po' Mh 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 Allora cosa facciamo Warp Faction Faction Dove mi porta Eh mi porta qui Allora siamo in forniti a sto mondo Cioè non mi piace perché Mh Guarda è brutto da vedere Non c'è niente È brutto esteticamente Un C'è un parkour C'è un cavolo Pianura Pianura Proviamo ad andare a warpianura Vabbè di sopra non cambia un cazzo Vabbè Ascolta facciamo una cosa Per vedere com'è realmente qua Proviamo a farci una cosa Proviamo Dai vieni al warpianura Vieni qua al warpianura Dai su Voglio provare a vedere qualcosa Faccio dal menu fazione Aspetta Informazione fazione No non c'è niente Warp list Che c'ha tutti Ma a me piace un casino sto menu Mi piace un casino Potensi di minerali Ah è vero C'è un altro Andiamo alla hub Hai ragione Hai ragione È vero Me l'ho scordato che c'era altro Andiamo alla hub Eh Hub Eh Alle skin per i poveri Cos'è le skin per i poveri Cosa succede Non capisco cosa Mi cambia la skin Scegli la tua skin Vai alla pedana Esci rientra Ah posso Aspetta Aspetta Io se Clicco qua sopra Ok 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 Io esco Entro Figo ma è vero Ho cambiato skin Vabbè c'è l'ingresso Che è sbagliato Perché ti dice Che non esiste Su server Ma è vero Ho cambiato skin Mi è affigato Sta cosa Cubi è uscito E si perderà lo spettacolo Carino Ah è bello Va vedere Ha vedo la skin diversa C'è l'uomo nero C'è l'uomo nero Signor professor Cubi Ha cambiato? Oddio Sarà un trans Come sta una carena Vabbè Come sta una carena Vabbè Andiamo a vedere Terra un'altra cosa Scana Terra scan Per le premium Ah non ho il permesso Ah non ho il permesso Ok devo essere Che figo Devo essere premium Eh si sono entrato con SP Ragazzi Se no Non potevo andarci Andiamo a vedere il parkour Ah beh Mi porta qui davanti Vabbè sì Vici 500 Che cazzo è sta roba Black people Cos'è? Ops Ho perso Black people Ho riuscito a sbloccare qualcosa Ma la sono persa Doh Che pirla Sono lo spawn Fai slash spawn Perché sta skin? Reaper Vieni bravo Che riper esplodi Esplodi bravo Ok Sono disattivate anche le esplosioni Del creeper Madonna Si sono impegnati qui Per il settaggio di tutto Oh ma Oh ma Oh Oh ma Posso morire? Sì Posso morire Allora Non ci sta tantissimo Che posso morire Ehm Sono tutti di gran complimenti Vabbè andiamo allo spawn Va Stiamo facendo dei complimenti Salta bimbo Tanto che Accetto il signorino Qua dietro Direi che abbiamo visto Tutto il server È carino È molto carino Il server sinceramente È fatto molto bene Secondo me È settato bene Tutte queste cose qui Non sto a ripetere Comunque ragazzi Come voti Costruzioni 5 Quelle che ci sono Non sono fatte male Ma Non gli do un soldo bucato Perché sono troppo semplici Sono belline Ma vedete come spoglio Cioè non mi viene la voglia Di venire spesso qua Cioè è brutto Tutto bianco Cioè non mi piace Non dico le questioni sono fatte male Ma non mi piacciono Onestamente Eh la hub Ragione Di sicuro è copiato Cioè di sicuro Purtroppo Perché è molto bello Ma se si fa quello stile Un po' dovunque Ci starebbe Quindi costruzione Gli darei un 5 Per il settaggio di tutto Gli darei anche un 7 Troppo generoso Troppo cattivo Quanto dice lei signore 7 troppo 8 Va bene 8 Troppo cattivo Dai Diamo io un 8 Perché Va bene che le armi Non ho capito Come si prendono Adesso che siamo invorniti Noi Però sinceramente Mi piace come è stato settato Il tutto E per me sono settati bene Ah no Fermo 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 Che diamo la sufficienza Che dicevi andano La hub Che cazzo la prendi a fare La sufficienza Che dicevi Mi sono scordato Vabbè Voto cala Gli diamo il 6 Dai perché mi piacciono Gli diamo il 6 Dai sinceramente Che mi piacciono Gli shop Pazienza dello staff Zero Non c'è O c'è nessuno Aspetta Provo a schierare C'è nessuno C'è Non c'è nessuno C'è Non c'è nessuno È triste Quindi Zero Mi dispiace Si deve essere ogni tanto Qualche uno dentro Non c'è mai nessuno Cazzo Ci sta E non serve Cioè Sinceramente Non è bello E per il divertimento Uguale Sempre zero No Non c'è niente da fare Cioè Io gli do due Mi dispiace Perché non c'è niente da fare Sì Ma un pvp Ci può essere benissimo In qualsiasi posto Non sei per forza un faction Quindi sinceramente Io gli do due Perché Non c'è niente da fare Eh Sono sbagliati a mettere un blocco Li devo bruciare vivi Comunque ragazzi Spero ovviamente Questo episodio del minecraft Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare il pollice Se il video Vi ricordo di lasciarlo Se non vi è piaciuto Questo video Commentatelo Condividetelo ovunque Anche al cesso mi raccomando E niente Per un momento Possiamo dire Che da questo belle Siamo tarder Possiamo dire Ah no Non è Favij Cioè per quello che Forse pensava Che fosse Favij Non è Favij Possiamo dire Che è finita Viene la testa bassa Viene la testa bassa Pika Pikachu Pikachu Aspè Pi Pikachu Scusate Devo andare sul mio naso Al prossimo episodio Addio